Hotel Sangallo, l'accoglienza è di casa. L'Hotel Sangallo si trova nel centro storico di Monte San Savino, antichissima città della provincia di Arezzo, ricca di storia e tradizioni. L'albergo di categoria 3 stelle offre camere confortevoli ed accoglienti in un ambiente elegante e raffinato. Aria condizionata, TV satellitare e un comodo parcheggio interno sono alcuni tra gli rinunciabili comfort che la nostra struttura offre ai suoi ospiti, mentre il personale, sempre attento e discreto, saprà soddisfare le vostre richieste, facendovi sentire a vostro agio e in completo relax. Appena arrivati, è possibile accorgersi immediatamente di cosa significhi il piacere di un soggiorno nel nostro albergo. All'Hotel Sangallo, l'atmosfera che si respira è incredibilmente piacevole e la gentilezza con cui sarete accolti lascerà nei vostri cuori un ricordo indelebile e una ragione per ritornare a trovarci. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.sangallohotel.it www.sangallohotel.it www.sangallohotel.it